Facciamo un appello a unirsi non per testimoniare delle idee, ma per farle vincere contro il rischio non del centrodestra, perché non c'è più il centrodestra, ma della destra, a volte della destra estrema che ha sostituito il vecchio centrodestra e che si presenta nelle regioni per vincere. E questo noi non lo perdoneremo e non lo permetteremo mai, perché combatteremo con le nostre alleanze, ripeto, perché siamo l'unica partito del centro-sinistra che in tutta Italia ha presentato le liste e ha alleanze competitive ovunque per vincere. Io combatto e il PD combatte per vincere e per dare agli italiani che non voglio che vinca Salvini e Lameloni una opportunità, perché è quella parte d'Italia che ha conquistato le risorse finanziarie per riaccendere i motori. E dedichiamo tutto questo alle ragazze e ai ragazzi italiani, ai giovani che non devono pagare come stanno pagando il costo di questa crisi. Ma questo non si fa con le pacche sulle spalle, lo si fa con investimenti che abbiamo ottenuto. Quindi c'è molto da fare. Ciao a tutti.